Sono stati condannati i tre giovani di San Mauro Cilento, resosi responsabili di violenza sessuale nei confronti di un'amica. Nel 2010 abusarono di una compaesana e nel 2016 il Tribunale di Vallo della Lucania sentenziò nei loro confronti una pena di quattro anni di reclusione, oggi confermata anche dalla Corte di Appello di Salerno. Il difensore della vittima, l'avvocato Antonio Mondelli, riferisce che giustizia è stata fatta e ricorda che la ragazza ha avuto un paese contro solo per aver trovato il coraggio di denunciare. L'avevano trasformata in carnefice, spiega il legale, facendola passare addirittura per una squilibrata. D'altro canto, gli avvocati dei tre imputati fanno sapere di voler attendere il deposito delle motivazioni per fare le loro valutazioni anche in merito a un ricorso in Cassazione. Il fatto risale a otto anni fa. Con la scusa di andare a bere qualcosa ad Acciaroli, i tre giovani fecero salire sul sedile posteriore di un apolo la vittima e deviando in una stradina di campagna si fermarono e iniziarono a palpeggiarla nelle parti intime.